La mia meravigliosa signora Emanuela Mantegazza. Supermeravigliosa. Un intro così, accidenti. Io confesso che saranno i chilometri che ho passato sul palco. Non riesco mai a preparare nulla e andare sul palco con un microfono in mano è per me la cosa più facile del mondo. Faccio più fatica quando sono giù. Però stavolta sono agitato, lo confesso. Perché questo libro che andiamo a presentare è per noi una tappa assolutamente fondamentale. Ne abbiamo fatti altri due a cui teniamo molto. Eh ma questo qui c'è dentro qualcosa in più ancora. Il titolo di questo libro, partiamo da lì, sono un grande titolista, cominciamo a farmi la recensione da solo. Per tutti per sempre è uno dei titoli più belli che io abbia mai visto, diciamoci la verità. Ed è una cosa nata in realtà assieme perché noi ce la dicevamo spesso. Non è voglio te per sempre, ci sembrava un concetto troppo limitativo. Il per sempre, che a tanti sembra un troppo, una cosa che non si deve dire, c'è non altro per scaramanzia. No, no, non può durare per sempre. A noi il per sempre sembrava e sembra una prospettiva troppo limitata. Forse perché ci siamo detti sempre, per tutti per sempre, considerando che non sappiamo assolutamente cosa ci sia al di là delle soglie. Ma se qualcosa ci fosse voglio ritrovare te. Questo era il punto. E siamo partiti nello scrivere questo libro che ha quell'immagine lì. Ieri sera quando ho aperto il festival abbiamo creato un ideale ponte con Broken Nature, l'installazione, la mostra che sta in triennale con Stefano Boeri e con Busta. Quell'immagine è su di sopra Broken Nature ed è l'opera di un'artista australiana fantastica che si chiama Patricia Pellegrini. Questo libro è nato da questo. È nato dalla nostra ossessione, solo che si tratta di un'ossessione per una volta non distruttiva, non negativa, ma da un'ossessione che nasce dalla sovrabbondanza. Noi ci siamo incontrati 25 anni fa, diciamo sempre che ringraziamo il cielo per averci fatto incontrare e diamo le testate contro il muro per non averci fatto incontrare molto prima. Allora questo libro per noi è una sorta di risarcimento, è una dichiarazione d'amore così potente che non si accontenta di 25 anni, neanche di questa vita, ma vuole tutte quelle dopo e anche tutte quelle prima. Che è la cosa più buffa del mondo perché immaginarsi di volere quelle dopo è semplice, immaginarsi di volere anche quelle prima comincia a diventare piuttosto complicato. Quindi abbiamo fatto un viaggio insieme cercando di ritrovare dentro la nostra memoria storie del passato che ci vedessero insieme. Quindi abbiamo scritto un libro che è una storia unica ma è fatto di moltissime storie diverse che si possono anche leggere separatamente e che contengono qualcosa che non so a che mondo appartiene. È come dire la realtà che noi vediamo non è tutta la realtà, quindi ho deciso di andare al di là di questo muro che è la realtà che vedo e sento e percepisco e lasciare parlare come il DNA, qualcosa che mi ricollega anche a passati estremamente lontani come quelli là dell'immagine del libro. E sono partita raccontando una storia buffissima, quella di un nostro primo incontro come esseri unicellulari nel brodo cosmico e quindi abbiamo fatto un viaggio. Questo libro adesso ne faremo una lettura, noi non abbiamo mai fatto una lettura di un libro? No, anche perché in generale noi non abbiamo mai scritto una storia, abbiamo sempre parlato dell'amore felice, visto che viviamo un amore felice in genere l'amore felice non si racconta e c'è un enorme bisogno di raccontare amore felici. E quindi avevamo scritto libri cercando di raccontare come noi eravamo riusciti a superare tutte le barriere, tutti gli ostacoli. Questa volta no, abbiamo fatto un saltone. Abbiamo presentato prima là il libro di Rita Lopez e qua adesso Andrea Colaminici e Mauro Gangitano e c'è un filo conduttore netto che è l'epica, l'amore come narrazione epica. C'è anche un esperimento in questo senso molto pratico perché questo è un libro che noi ci siamo autoprodotti, ce lo siamo fatti da noi perché non concepivamo che qualcun altro c'entrasse. Anche se in realtà c'entra Amazon perché con Amazon abbiamo fatto l'audiolibro, con Amazon faremo un podcast, per cui in realtà in questo momento il libro si trova soltanto su Amazon o al bookstore quello che sta su di sopra. Cominciamo a raccontare delle cose. Volevo aggiungere questa cosa che l'audiolibro è uscito un po' di tempo prima rispetto al libro e la cosa che mi è sembrata più strana è questo ritorno di commenti che parlano quasi tutti di commozione. E io che pensavo che l'ossessione, molto egocentricamente pensavo che l'ossessione fosse solo nostra, in realtà mi sono accorta che questa voglia di attraversare tutte le soglie con qualcuno che amiamo è comune a tantissime persone. Non necessariamente può essere il marito, il fidanzato, ma a volte una madre, un padre, un figlio, un fratello, voglia di ritrovarlo sempre, nel tempo. E quindi mi sono scontrata con queste persone che dicevano che mi sono commossa. È stata un'esperienza strana anche per me, mi sono commossa anch'io. Io lo trovo molto bello soprattutto perché, poi tu prepari la prima lettura, noi ci siamo molto messi in scena con i libri precedenti e soprattutto con questo libro. È un libro davvero impudico in qualche modo, lo vedrete, nella maniera più assoluta. Però, giuro, non lo facciamo per mettere in scena noi stessi. Lo facciamo per dire, maledizione, è possibile farlo. Prendete il senso dell'impresa, la dimensione epica dei grandi sentimenti, della passione, di una storia d'amore come quella che raccontiamo in questo festival e accidenti andate a giocarvela. Manuela. Nessuno può comprendere questo tormento a meno che non abbia accettato, come noi, di nutrire la belva. Stringerla fino a imprigionarla nella mente, nella carne, lasciarla scorrere nei nervi, lasciarle percorrere la pelle, le articolazioni, i muscoli, aggrappate ai tendini, alle ossa, rossa di sangue vivo. Sì, perché questa ossessione, questa voglia di non accettare limiti, di alzare il tiro anche quando va già ben oltre i confini conosciuti, questa smania di eternità, questa pena vorace che non si rassegna e urla, chiede, pretende, batte i pugni, graffia le porte del paradiso e spinge, spinge ben oltre la forza per ottenere tutto l'infinito spazio dell'essere, quest'amore che grida possesso senza contraddizioni, impudico per natura perché si mostra senza veli in tutta la sua erruente passione, quest'amore appartiene al cielo e ai folli. Noi non siamo folli, siamo cielo. Il tempo, è il tempo il nemico definitivo perché lo spazio può essere sconfinato ma alla fine ci arriviamo come abbiamo sempre fatto prima con terre e mari sconosciuti e poi con la luna e i pianeti, ma il tempo no. Il tempo è il crudele tiranno, è l'efferrato serial killer, è la muraglia di ghiaccio invallicabile e indistruttibile. I migliori tra noi possono proiettarsi nel futuro attraverso le loro imprese, le loro opere o la forza del ricordo lasciato ai propri figli. Forse del futuro ci impadroniremo nelle prossime vite, che non so se esistono per davvero, ma non possono esistere per noi due. Ma per quel che riguarda il passato, in migliaia di anni non abbiamo trovato nulla di meglio che immaginare macchine del tempo, ritorni al futuro, improbabili piega extratemporali. Tu sei la ragione per cui non posso rassegnarmi a considerare inevitabile il crudele meccanismo del tempo. Non posso rinunciare a un passato che ci spetta, che ci era destinato. Imploro allora gli scienziati, gli architetti, i fisici, gli ingegneri, i filosofi. Voi Leonardo da Vinci, voi Steve Jobs, voi Lao Tzu, cercate, esplorate, trovate, ve ne prego un modo per anticipare il passato, per permetterci di usarlo e reinventarlo. Riaprite le sliding doors, così che noi possiamo tornare indietro da una imboccata improvvidamente e scegliere quella che doveva essere. E' tempo di riprenderci il passato che ci è dovuto. A volte fa paura quello che dici. Allora, questa vita così potente, così viva, così misteriosa, fatta di briciole disperse nello spazio sconfinato, che si ritrovano e si sparpagliano migliaia e migliaia di volte, queste briciole di noi che vagano alla ricerca l'uno dell'altra attraverso il tempo e il fatto che le raccoglie e le scaglia lontano nel vuoto, senza alcun rispetto per i pieni che il movimento a volte crea, a volte distrugge. Questi infiniti noi, così diversi e così assolutamente uguali, che tessono ragnatele, legami potenti e indistruttibili perché il tempo non li separi, proprio come noi, unica molecola formata da due atomi di puro ossigeno. Il respiro ci trattiene insieme. Noi due, atomi perfettamente interi, allacciati, avviluppati, avvinghiati in un'unica, sola, singola molecola per confondere il nemico, ingannarlo e attraversare uniti tutti i portali. Noi come l'aria, che la fendi, la traversi, ma resta sempre intera. Poi mi hai preso la mano. Questa è vera. Era il nostro secondo incontro in mezzo a troppe persone. Mi hai preso la mano e in quelle mani che si prendevano c'erano tutti gli sguardi, tutte le scelte, tutto il sesso, tutti i valori, tutti i gesti di coraggiosa tenerezza e quelli di tenero coraggio, tutti i motivi della nostra incondizionata reciproca fierezza. In quelle mani che si prendevano c'era lo scretolamento del regno di Kronos. In quelle mani che si prendevano c'era che da quel momento anche il cinquantesimo bacio di qualunque giornata sarebbe sembrato il primo bacio della storia umana, l'invenzione del bacio. In quelle mani che si prendevano c'erano tutti i calcoli e le traiettorie per andare sulla luna. C'era la O di Giotto. C'era Giulietta e Romeo trionfano su Montecchia e Capuleti. In quelle mani che si prendevano c'erano le prime parole dette dai bambini che prima o poi nascevano da te e da me e anche tutte le parole dopo. In quelle mani che si prendevano c'era il senso definitivo della creazione. In quelle mani che si prendevano c'erano tutte le ragioni genetiche per cui ineluttabilmente io non potevo essere che tu e tu mia, sì, tu, mia, possesso. E che si fotta chi ha paura delle parole forti e scomode. In quelle mani che si prendevano c'era l'incontro fatale tra la venere di Botticelli e San Giorgio che uccide il drago. In quelle mani che si prendevano c'era tutta una vita troppo grande per restare dentro una sola vita. La cosa delle mani per noi è importante perché noi ci siamo riconosciuti toccandoci le mani per cui è rimasta una cosa che segna tutta la nostra vita. Infatti io continuo con le mani. Stanotte le nostre mani si cercavano. Stanotte, come tutte le notti che il tempo contiene, le nostre mani si attraggono come i polli di una calamita. È così da sempre. Basta un soffio, un leggero sospiro, un frullo d'ali, un minuscolo gesto e nel sonno le nostre mani prendono vita e vengono risucchiate nel contatto. Tra quelle mani si crea un magnetismo inconsapevole, slegato dalla mente, dal pensiero. Un moto involontario che liberandole da ogni controllo le induce comunque a cercarsi. Non importa quanto siano distanti, non importa quanto la profondità del sonno le allontani, non importa che i sogni guidino il viaggio per strade diverse, le mani si cercano. C'è un incanto sottile in quei piccoli gesti che la vita racconta, piccoli gesti apparentemente insignificanti ma pieni di mistero, proprio come quando tutto si infila perfettamente, senza un perché, senza una ragione apparente. Della vita amo la sua capacità di sorprendermi. Non è necessario ricorrere alla logica. Esiste un istinto che spesso comprenda senza nemmeno capire. Ma che importa? Che bisogna abbiamo di spogliare la magia della sua meraviglia? A volte la scienza dà risposte, a volte anche le risposte suonano magiche incomprensibili. Ad esempio, la fisica quantistica ha recentemente dimostrato che se prendi due elettroni e poi li separi, a prescindere dalla loro distanza, essi rimarranno in comunicazione. Ciò che accade a uno avviene istantaneamente anche all'altro. Questo miracolo si chiama intreccio. Tutto questo spiegherebbe questa nostra capacità di risvegliare storie e visioni che questa vita non ricorda, che il nostro cervello quantico però non ha cancellato. Allora, perché non posso credere a un contatto eterno, a un intreccio che ci leghi al di là del tempo e dello spazio? Noi abbiamo fatto di quel magnetismo la nostra scelta di vita, l'abbiamo nutrito, protetto, ci abbiamo costruito sopra la nostra visione del mondo, l'abbiamo reso il nostro punto di forza, quello che ci permette di nuotare anche controcorrente. Che il numero quotidiano dei nostri baci, dei nostri contatti fisici, continui dopo tanti anni a proiettarsi oltre qualunque unità di misura, ci sembra già rivelatorio. Ma che anche nel sonno le nostre mani non riescano a non cercarsi. Ecco, lasciatemi davvero credere che questa sia la prova che esiste, non soltanto per noi naturalmente, un superiore magnetismo del destino. Provare nutrire Ubris, che è una parola che adoriamo, non vuol dire non sapere che i limiti esistono e sono spesso invalicabili, ma vuol dire non accettare di definirti in base a quei limiti, in base alla misura e alla ragionevolezza. Vuol dire onorare come assoluti, incondizionati, infiniti, i tuoi sentimenti e il tuo destino. Non è che non devi vedere i limiti, saresti un imbecille, è che se ti convinci di stare dentro i limiti, di accettarli come unità di misura, allora poi non lamentarti. Se il tuo grande amore lo guardi nello specchietto retrovisore, se è inevitabile che la passione svanisca, se la parola separazione, nella doppia accezione di ognuno per la sua strada, oppure di lontani anche in 40 metri quadri, ti appare più familiare della parola per sempre. Ti guardo ed è il trionfo dell'Ubris. Se guardandoti non provare su Ubris, quello sì che sarebbe un crimine. Guardi i tuoi movimenti, la tua sovrabbondanza vitale, il tuo culo, il tuo languore, la tua fierezza, ed è irrefrenabile voler sfidare a viso aperto il tempo, le leggi della logica, le autorità metafisiche, gli imperativi categorici, tutto quello che ci vorrebbe legati a un limite, a tutti i limiti che ci hanno inflitto. Lo devo a te, lo devo a noi. Ci siamo incontrati e tardi io e te. Ma che vuol dire tardi? Non basta sapere che ci siamo incontrati, che finalmente siamo noi, che abbiamo ancora tempo, che avremmo potuto non incontrarci mai. È sempre la stessa banalissima storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Sì, certo, ma il bicchiere è davvero mezzo pieno e anche assolutamente mezzo vuoto. La metà piena è così piena che trabocca, l'altra, quella mezza vuota, è così vuota da trascinarci dentro un buco nero senza via d'uscita. E siamo bravi noi a navigare nelle acque scure, a lottare, a resistere, ma il vuoto del bicchiere non si riempie mai. I nostri giochi, quegli slanci che da anni accompagnano i gesti, quel rincorrersi di baci, quel senso di assoluta appartenenza, per molti è un sogno irraggiungibile, mentre per noi è quanto di più naturale. Non credi che sarebbe ingiusto chiedere anche una sola briciola in più di tutto questo? Sarebbe ingiusto, assolutamente ingiusto, ma perché la vita dovrebbe essere giusta? Perché io dovrei decidere di non chiedere di più, di non alzare il tiro? E poi sarebbe anche assolutamente giusto perché noi ci nutriamo a vicenda, perché io e te non siamo una somma, ma una moltiplicazione, perché quello che avremmo potuto costruire insieme mancherà sempre. La verità e le sue numerose facce, una nella metà piena, l'altra nella metà vuota. Se non le vedi entrambi, la verità non la vedrai mai. Ci sarà una vita in cui il mondo che stiamo abitando adesso ci sembrerà assurdamente antiquato e ci chiederemo come abbiamo fatto, senza cose che allora saranno essenziali e che oggi neanche riusciamo a immaginare. Sarò, come sono ora, il primo a guardare il passato con commiserazione e a entusiasmarmi per ogni invenzione ed evoluzione. Ma poi penserò che noi insieme, il nostro destino, siamo supremamente esistiti quando non c'erano la ruota, la stampa, l'elettricità, agli aerei, la tv, i grattacieli. Figuriamoci Facebook, iPhone e web. Subremamente siamo vissuti qui a Milano quando non c'era il Duomo, a Londra quando non c'era Buckingham Palace, a New York quando non c'era New York, a Camelot e ad Avalon prima che scomparissero. Non riesco a pensare di non vedere e vivere i prossimi mondi e i prossimi futuri. Ma alla fine, l'unico mondo e l'unico futuro che voglio è con te, come è sempre stato, come sempre sarà. E poi ci sono delle storie. Ne abbiamo scelta una un po' breve per non esagerare. Quella notte le luce le illuminavano l'intero campo di grano. Avrei potuto toccare la magia della loro danza sotto il cielo stellato se le migliaia di cicale che mi circondavano avessero smesso di finire ossessive e fastidiose. Sdraiata con gli occhi al cielo e le orecchie ancorate a terra, vivevo quell'attimo sospeso prima del tuo arrivo e rincorrevo i momenti in cui avevamo attraversato quello stesso campo di corsa. Sorridevo ancora ricordando quella prima volta in cui eri riuscita ad afferrare la mia gonna, a trascinarmi a terra e a tenermi stretta, schiacciata sotto il tuo corpo eccitato, bocca a bocca, il tuo respiro dentro di me, il mio in te. «E' vero ti avevo provocato, ero scivolata via veloce dal tuo braccio lasciandomi dietro le ultime case del paese e mi erano entrata in campagna. Correvo e mi giravo maliziosa lanciandoti occhiati impertinenti. Correvo e facevo volare la mia gonna corta e leggera per lasciarti intravedere il mio desiderio. Correvo e mi scioglievo i capelli, non più l'educanda appena uscita da scuola, ma la forza del femminile che sboccia e fiorisce. Correvo e slacciavo uno dopo l'altro i bottoni della divisa. Stavo ancora correndo quando ho lasciato che la camicia bianca volasse via nel vento e non ho smesso nemmeno quando girandomi ti lasciavo intravedere i miei capezzoli eretti baciati dal sole. Correvo e replicavo il gioco più antico del mondo che pur essendo sempre uguale non è mai lo stesso e ogni volta ci imprigiona e ci libera nello stesso momento. Stavo ancora correndo quando mi hai afferrato e trascinata giù, con te, tra le stoppie pungenti, proprio come ora, bocca a bocca, il tuo respiro dentro di me, il mio in te. La vita con te non può che essere vita onnipotente, espansiva, promiscua, proliferante, irrefrenabile. Vita che respira, che avanza, che evolve, che riscalda, che moltiplica, che prolifera, che connette, che valorizza, che genera, che sfrenatamente si impadronisce di tutto. noi, super vita. Per tutti per sempre, ma con un'evoluzione. Allora, la nostra nipotina americana, che vive a Los Angeles, che voleva essere qui assolutamente, e purtroppo con la scuola non è potuta venire, ci ha mandato un testo da leggere durante il festival, che racconta la sua visione dell'amore. Isabella ha nove anni, ok? Puoi dire qualcosa in più? Eh no, dillo tu a questo punto. Adesso, no, è una domanda. Voi dovete spiegarmi come io faccio, a parte questa donna, a non essere completamente impazzito per quella robina lì. È chiaro che io sono al suo rinzaglio, non c'è neanche storia. Questa è la vera potenza del femminile. Allora, Isabella ci ha mandato una lettera in cui racconta la sua visione dell'amore. Dice, mi hanno chiesto una volta che cos'è l'amore per te. Ecco la mia risposta. Per me l'amore è la forza che ti fa andare avanti e che ti tiene viva attraverso le porte dell'inferno. Senza amore non abbiamo nulla. Puoi avere tutti i soldi al mondo, ma senza amore non sarai mai completo. Non sto dicendo di andare in strada e chiedere al primo che passa di sposarti, proprio no. Quello che voglio dire è che l'amore ti rende intero, ti dà la forza per migliorare, ti dà il senso di tutto, ti dà uno scopo. Senza amore non c'è vita, senza amore non saremmo nemmeno mai nati. Sai, una volta ho detto a mio nonno la sola cosa che conta sono l'amore e la famiglia. Piccole parole potenti sono il sapore della realtà di una bimba. La famiglia non deve essere per forza però biologica, per essere vera. Alcuni legami sono più forti, sono frutto di una scelta, non sono sempre acquisiti. Avevo, quando avevo otto anni, ho detto una cosa. Mentre ero davanti alla porta di casa salutavo il nonno e naturalmente il nonno torna regolarmente, salutavo il nonno che stava andando all'aeroporto per partire, gli ho detto quando vivi un'esperienza meravigliosa devi essere pronto anche a farti spezzare il cuore, ad essere triste per la mancanza di qualcuno. Con la felicità arriva anche la tristezza, con la rabbia arriva la gioia. Tutto è un ciclo, in e yang. L'amore è la cosa più importante dell'universo e io sono così felice che l'amore sia stato creato perché noi ne possiamo godere. Isabella, il motivo per cui per tutti e per sempre non è affatto una meravigliosa frase fatta, ma è il senso dell'evoluzione. Grazie. Grazie. Grazie.